E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo, freschissimo video Come avete letto dal titolo, oggi siamo qua in compagnia di due giocatori che vengono direttamente dal Brasile, signori Il primo ha esordito nelle giovanili del Corinthians e altre squadre del Brasile Brandao! Brandao, meravigliato! Allora ragazzi, non parlano appunto italiano, però spero... E lei sa bando di vagabond? Ok, ok, va bene Il secondo ragazzi, anche lui brasiliano, ha giocato nel Santos, ha esordito in Serie A Direttamente Lo trovate, LISLEI! Eita! Si, si, anche tu sei mio amico Se você gosta di arroz con frango Do you speak English? Frango? Frango? Paroffa Che minchia è faroffa? Cosa faremo quest'oggi? Quest'oggi li testeremo un po' Perché giustamente sono giocatori belli che pronti, sono fortissimi e andremo a vedere quanto sono forti questi brasiliani Primo esercizio, dovete scambiarvi la palla Siccome voi brasiliani siete bravi, tanto di palla al volo, palleggi, vi scambiate un po' la palla, la palla non deve mai cadere Passi la palla per l'altro, come facciamo nella favela A gente non parla inglese Pauca Caraglio Go, 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 go Calma, mozzarella Calma, calma e torna a mangiare la mozzarella Ok, va bene Ok, bene Ehi 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 Go, culo, caraglio Eh ragazzi qua Ok Gole Gole Ok Grazie cazzo Va bene, adesso... Chi lo spiega che posso iniziare a fare sul serio? Fuerte fuerte Mor favela Mor favela Farò Farina 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 Ah ok Oh Oh quasi Bello Bello Bene Bene Figurato Figurato Ah Ragazzi È appurato Che la qualità brasiliana c'è Quindi passiamo al prossimo step Basso il riscattamento Ok ragazzi Morisio ha scherzato abbastanza È arrivato il momento di fare sul serio Visto che siete brasiliani Bravo Adesso uno contro uno Contro Isac Io contro lui Quanto con questa lingua qui? You vs me Sa carne di kebab Io amo Che sono di kebab La piccata piccagna La carne La carne Vediamo chi sarà la vera piccagna tra noi Ah è una sfida ragazzi È un difenso Ragazzi cambio di scena Cambio di programma Al posto di Isac Entra Pierino Perché vogliamo alzare la qualità Siccome siamo in Italia Che cosa vorresti dire? Che non c'è la qualità No 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 È che giustamente te saresti un portiere Quindi hai capito? Però qua invece abbiamo un giocatore italiano E vediamo se superano il test dei brasiliani Quali dadi Italia carani Quali dadi ragazzi Quali dadi Hai capito la cosa? Pio Quali dadi Ok Quali dadi E allora Vai con la scuola Allora Parte Il nostro brasiliano Oh bellissimo stop Vediamo Ragazzi mi raccomando Ricordiamo che ho giocato nel giovanile Santos Prova il numero Mamma mia che dribbling Davvero brasiliano Attenzione Si muove come Neymar Che giocata Che giocata Che giocata Che giocata Oh Mamma mia che numero che aveva fatto Ma non va come qui oggi Io vorrei comere l'intero È uguale un frango Amici brasiliani Traducete per favore Qua sotto nei commenti Cosa il carattolo vuoi di prendere? Rupai È Seba Adesso abbiamo Brandão Attenzione Mila Oh Che numero ragazzi Adesso sta di nuovo a Lisley E allora Canaventi Canaventi Invenzione bellissimo stop Da parte di Lisley Lisley Lo studia Vediamo un po' Che numero Ha intenzione di fare Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oh Signori Ma come si è andato via ragazzi Ma avete visto che top di pala Che hanno questi brasiliani Qualca miseria Quale il dare Quale è il dare? upai 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 Tau Usa Pierino Oh 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 A Cosa è successo ragazzi Oh Ma com'è? Ah è forte lui È già finito qua Ah è giusto qua Però Te ho superato Non ho capito lì Vediamo un attimo il replay Così ho un crampo Però vabbè, adesso sta di nuovo a te Lisley, ti devi rifare, rifà, muy bien, brazile, mostrate tutta la vostra forza, dai Eccole qua, il grande brasiliano Sessione, bellissimo stop, mamma mia, vediamo che numero si inventa Ma che parata ha fatto, wow, ragazzi, c'è da fare un applauso, comunque c'è ragazzi ha tirato fuori una bellissima skill Ha fatto un contromovimento, Pierino, Cepirino, Moncello, wow, i brasiliani sono veramente forti ragazzi Adesso abbiamo il nostro amico del Corinthians che ce lo dimostrerà, dai eh, hai l'ultima possibilità, mio amico What do you want? Quero você, nego Eh, me? Eh, vuole me in difesa? In realtà fa l'anno molto Ah, ha detto che parla troppo quindi vuole Isley in difesa, va bene, va bene Brasile è cano ragazzi Brasile, mamma mia, bellissimo, lo stop da parte delle brasiliane Vediamo cosa si inventa, vediamo cosa si inventa, guarda, fa il numero, si siede, la palla, ce l'ha lì, ce l'ha lì Eeeh, attenzione, oh, che rumore ha fatto, oddio, oddio, oddio Oh, mamma mia, che livello, posso dire che sono vero? Io non capisco, perché squadre come Juventus, Inter, vadano a spendere i milioni all'estero quando abbiamo giocatori del genere Certo, questo abbiamo l'ultimo uno contro uno, l'Isley contro Isak e poi passiamo alla prossima sfida finale Come on Oh Bellissimo, lo stop di petto Come giocato, come giocato, come giocato Vediamo, oh Come on C'è la danza del Brasile contro la danza del Ghana Come on Attenzione, si sfida di due Come on E finisce così, questo uno contro uno, Italia contro Brasile Per questa volta ha vinto la difesa italiana, signori Ma adesso, adesso abbiamo la bellissima sfida finale Quindi, due contro due, i due brasiliani, fenomeni contro due italiani, fenomeni Yes, go, papi Ok, ci sei Benvenuti ragazzi nella sfida finale Sarà una sfida alla romana Che non è la pizza Non è il tipo di pasta Non è il conto da pagare Signori, è una sfida In cui sarà appunto un due contro due Ovvero team Brasile contro team YouTube Formato da Off Samuel e Om Nella sua versione Prime 2022 Si arriverà a tre gol La prima squadra che arriva a tre Vince il video E vediamo se i brasiliani Veri o brasiliani ordinati su We E allora, portiere puoi rinviare Ricordiamo, è un due contro due Si arriva a tre gol Portiere, prima di domani Grazie mille, gentilmente Molto cortesemente Ribatte la palla in mezzo Allora, attenzione Vediamo È il primo attimo Da avere il pallone Da per il Brasile Potrebbe sentare il tiro da fuori I tira-girre Che però non provano Passaggio a Om Nella sua versione Prime Moment In funzione Si appoggia a Samuel Attenzione Puoi permetterci l'1-2 scavetta Mamma mia Che servizio da parte di Samuel Freca tutto Come solo lui sa fare Ma veramente Vedete l'internet Perché oggi avete già visto abbastanza Allora, attenzione Anche uno che perde palla Come sempre Passa il giocatore Direttamente dalle giovanili Del Corinthians Che prova a saltare Samuel Ma non l'hanno allenato Abbastanza bene Diciamo allora Che il pallone È nelle gambe di Samuel Attenzione Samuel Un po' egoista Che fa tutto da solo Altro scavetto Ancora Vediamo se sprechierà Anche questa occasione Esattamente sì Questo stop Mi ha ricordato Daniele Brogna Signore Allora, attenzione Arrivata il portiere Attenzione Seva Mamma mia Che stop La brasiliana Non si gioca Sulla sabbia Signori Ma la qualità Non manca Quest'oggi Attenzione Attenzione Seva Carraio Può provare il tiro Scavetto Palo Mamma mia Che giocata Che ci aveva regalato Il giocatore Brasiliano Si riparte allora Dal rilancio Del portiere Come sempre Con molta calma e cautela Attenzione Possesso palla Per Om E allora il team YouTube Che ha il pallone Vediamo Samuel cerca di farsi vedere Vediamo se Om Riuscirà a pescarlo Con un passaggio filtrante Degno di prima 22 Grandissimo Gol 1 a 0 Per la squadra La vita nata da Off Samuel Olympia Stamba do Brasil Il gioco di game Ma che dura molto poco Perché Om ha il pallone Finta che non funziona Allora, attenzione Perché Om È davanti al portiere La butta dentro Attenzione Perché la palla Mi è sembrata Stata afferrata Prima del dischetto Del rigore Per cui gol Convalidato 2 a 0 In facilità Attenzione allora Giovanini e Corinthians Che prova un tacco Veramente non irresistibile E allora Attenzione un altro tacco Mamma mia Ma il portiere c'è Come un gatto La torna indietro Attenzione Off Samuel Però fermo Si è fatto male il portiere È stato pestato dal brasiliano Però si rialzano C'è fair play tra i due Inizia a chiudere le finestre Perché questo è il tiro Di Off Samuel Che volo da parte del portiere Sembrava un gatto volante Mamma mia Vediamo se proverà l'assist Attenzione Gioco di gambe Samba do Brasil A parte del ganese Attenzione Mamma mia Che dribbiga Allora prova il tiro da fuori Palla Primo possesso Da parte dei giocatori del Brasile Con la numero 10 Che ricorda Pelé Attenzione Vediamo se tira fuori la sua qualità Passaggio Tocco Tocco Veramente sbagliato Allora attenzione Off Per Samuel Per Samuel Il giocatore ganese Che si impossessa del pallone Passaggio per Om Occhio Om contro numero 10 Occhio Prova una finta In aria Torna indietro La passa assaggiamente A nessuno Prova il dribbling Veramente ubriacante Attenzione Di Mancino Anzi Rabona E gol 3 a 0 Partita chiusa Brasile A casa Potete tornare nelle favelas Ragazzi Nelle spiagge di Copacabana Perché la partita Finisce qui 3 a 0 Per il team capitanato da Home E off Samuel Come funziona in Brasile Quando perdi? Noi ganhiamo Eh? Noi ganhiamo Cioè? Noi ganhiamo Ah voi risultate Quando perdete? A gente ganhiamo Ah ok Va bene Allora E' arrivato il momento Della penitenza Abbiamo vincenti da una parte Perdenti a 90 Brasiliani La grande festa Andiamo Ragazzuoli 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 Questo video si conclude qua Dove sono i nostri brasiliani? Ah chi? Ah chi? Sennò eravamo già noi Gagnatori Ci siamo noi Ragazzi Io ringrazio immensamente I brasiliani Per esserci prestati Ragazzi Che dire Siete veramente forti Quando è che voi stessi In Brasile Ah io in Brasile Ok A 20.000 like ragazzi Io e Omar Andremo in Brasile A sfidarli A farci Le brasiliani No A garanza Adeus Pai E seba E seba Detto questo ragazzi Mi raccomando Seguite i brasiliani Vi lascio tutti i tag Link in descrizione Seguite Omar Amum E il suo canale Che si è prestato Per questo oggi Per questo bellissimo video Ringrazio anche I mitici Pirlasv Perino Per essersi prestato E Gabri Per averci filmato Per tutto Ragazzi Mi raccomando Lasciate un bellissimo like Lasciate un commento qua sotto Iscrivete altri Di altre nazioni Che volete vedere sul canale E detto questo Vi salutiamo E ci vediamo In un prossimo video Bella Ragazzi Grazie a tutti